Chi segue Luca Bizzari sui sociali e lo campagna nel suo lavoro conosceva Smok, il cane che da 13 anni condivideva la vita dell'attore. Purtroppo il pastore tedesco è venuto a mancare nelle ultime ore e per salutarlo pubblicamente, l'attore, regista e comico ha scritto un commovente messaggio su Instagram. Smok my 9-20-11, 24 novembre 2024 Scrive Bizzari, adio Smok, insieme eravamo proprio belli, spero tu possa trovare tutte le pigne del mondo da rincorre. Mi mancerai, amico mio. Ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare. Buon viaggio. Molti amici e colleghi hanno voluto esprimere il loro sostegno all'exiena. Che dolore. Luca, commenta la conduttrice Antonella Crici. Ti capisco tanto, amico mio. Ora Smok incontrerà Morfin. Scrive invece Rosita Selentano. Scrive invece Rosita Selentano. Scrive invece R成an. Bravo. Ciao. Ciao.